Quindi cominciamo a lavorare sia per Ferrari che per Ducati, quindi facciamo sia attività su Formula 1 che attività su MotoGP con prodotti realizzati in fibra di carbonio e poi a un certo punto abbiamo incominciato a lavorare anche sulle attività trasferite ai prodotti stradali, con ulteriori problematiche, che in particolare stradale necessita anche di pezzi di ricambio, oltre che di gran numero di pezzi da svilupparsi. E da qui ti attrezzi ancora ulteriormente con macchine a controllo numerico che permettono di lavorare i tuoi prodotti praticamente identici uno all'altro. Il prodotto di serie è un prodotto difficile da realizzarsi da un punto di vista praticamente economico, perché il prodotto di serie chiaramente ha dei costi che sono differenti da un prodotto che veniva realizzato per il racing. Parliamo di attività di natura prettamente industriale, quindi con tutta una serie di procedure che devi rispettare che partono dalla progettazione fino a portarsi alla produzione stessa degli elementi, tenendo conto diciamo che lo scarto deve essere ridotto ai minimi termini. Tutti questi elementi abbinati ad investimenti che devi per forza realizzare, ad esempio in macchine a controllo numerico che permettono di velocizzare quantomeno tutti gli aspetti della lavorazione di rifilatura degli elementi stessi in fibra di carbonio, hanno portato ad essere vincenti sul mercato della nostra azienda.